Che bella la nostra Taranto, ci troviamo in un punto incantevole sul canale navigabile, un panorama, uno scenario mozzafiato, però contemporaneamente a queste bellezze, a queste doti naturali che ci ha donato Madre Natura esiste il degrado, esiste l'abbandono, esiste l'incuria. Esiste ciò certamente perché c'è l'inciviltà di chi evidentemente ritiene opportuno lasciare i propri rifiuti così per strada, per terra, senza degnarsi di raccoglierli e questo è un fatto grave, però parimenti l'amministrazione comunale, chi è preposto a mantenere un minimo di igiene in città, dovrebbe provvedere e dalle immagini che stanno scorrendo è chiaro che l'igiene è assai precaria e non ci sono interventi di pulizia adeguati. Mi rivolgo all'amministrazione comunale, non si può tollerare che in una zona turisticamente appetibile noi dobbiamo assistere a scene di degrado, di abbandono, di sporcizia, qualcosa che ammazza, che dà un colpo terribile allo stomaco parlando di turismo. Non possiamo pretendere una città turistica, appetibile dal punto di vista turistico e però immersa nei rifiuti. Non dico ogni giorno, ma signori cari amministratori, ogni 15 giorni, ogni settimana, ogni 4-5 giorni, degnatevi, signori dell'Amio, anche voi, degnatevi di andare a fare una bella pulita perché non possiamo tollerare che si stratifichino rifiuti su rifiuti. Mi sembra ovvio, no? Provedete, siamo a Taranto, non siamo nel terzo mondo, capito?